Il Signore vi dia pace. Siamo nella congrega Santa Maria Assunta in Cielo all'Acquameno e qui con noi abbiamo Francesco che fa parte dell'amministrazione, un confratello iscritto qui alla congrega e vogliamo chiedere a Francesco un po' qualche nota storica su questa chiesa che tra l'altro così mantenuta, così bella e Francesco ecco cosa ci puoi raccontare? La congrega di Santa Maria Assunta in Cielo di l'Acquameno ha come prima notizia certa della sua esistenza quella del 10 gennaio 1684 quando con una bolla del Vescovo dell'epoca, Vescovo d'Ischia, girò la Marocca si pone la fondazione della congrega laicale di Santa Maria Assunta in Cielo in l'Acquameno secondo quelle che erano all'epoca le regole per fondare una confraternita. La confraternita come tutti sappiamo aveva lo scopo di aiutare i poveri così come anche oggi e quello di dare degna sepoltura ai defunti nel momento della morte soprattutto quelli lì che non si potevano permettere ecco una degna sepoltura all'epoca nelle chiese perché all'epoca la sepoltura dei defunti avveniva nelle chiese. La congrega attualmente si presenta ad un'unica navata con una cupola sul presbiterio a scodella. Sul soffitto possiamo ammirare delle decorazioni fatte nella seconda metà degli anni 50 così come per la cupola anche per la navata centrale fu adottato lo stesso metodo di decorazione. Sulla cupola vediamo i titoli che vengono utilizzati durante le litani lauretane mentre sulla volta della della navata centrale abbiamo l'immagine della madonna assunta con sotto ecco l'immagine della facciata della congrega e del fungo simboli appunto di l'Acquameno e del nostro piccolo paese. La congrega sorge in piazza rosario. Piazza rosario era l'antico centro di l'Acquameno dalla fine dell'impero romano quando iniziarono le invasioni barbariche fino al 1883. Piazza rosario perché? Perché sorgeva qui accanto l'antica chiesa dedicata alla madonna del rosario di cui oggi purtroppo possiamo ammirare solamente il perimetro del presbiterio in quanto è caduta con il terremoto del 1883. Ma c'è un quadro molto bello che vediamo lì al sudaltare. La tela che sovrasta l'altare maggiore è una tela attribuibile al pittore lacchese Alfonso di Spigno che è più conosciuto per le opere che ha lasciato a Forio ma lui era lacchese ed era iscritto a questa congrega. Stando a quanto riportato in alcuni documenti antichi presenti in archivio abbiamo la notizia che il suo corpo riposa sotto i nostri piedi in questa chiesa in quanto fu sotterrato qui all'epoca della morte. Una tela che rappresenta l'assunzione della madonna attorniata ad angeli e c'è un particolare che appunto richiama anche ecco il luogo quindi l'Acquameno dove in basso guardando la tela a sinistra possiamo vedere il promontorio di Montevico con il mare. Questa è la tela datata tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e poi abbiamo anche un'immagine settecentesca in legno della madonna assunta verso la popolazione di Lacchameno ha una devozione enorme. Basti pensare che ancora oggi dopo quasi quattro secoli si tiene la quindicina in preparazione alla solennità dell'assunta il 15 agosto con la particolarità di essere celebrata al primo mattino all'alba in quanto ecco anticamente i contadini lavoravano la terra e dunque si preferiva celebrare l'eucaristia prima di iniziare il lavoro e poi recarsi nelle proprie mansioni e nei propri lavori. Grazie Francesco, grazie mille. Come vedete ecco noi stiamo cercando di girare questi piccoli video un po' in una chiesa diversa ogni volta proprio per conoscere anche noi stessi il territorio e le ricchezze della nostra isola. O Spirito Santo Paraglito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Dal Vangelo di Matteo Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagogue, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Matteo esordisce in questo brano del Vangelo ispirandosi ad un testo del profeta Isaia e descrive una situazione tragica, una situazione che sconvolge il lettore, perché dice il popolo che abitava nelle tenebre, sulla terra c'è ombra di morte, quindi regna l'ingiustizia, regna il male, la vita addirittura non può crescere, le cose non sono come le vede Dio. Eppure in mezzo alle tenebre, in mezzo a questa situazione di totale sconvolgimento, il popolo comincia a vedere una grande luce. In questa ombra di morte, dice il testo, sorge una grande luce e noi sappiamo che questa luce è una persona, è Gesù, una grande luce che brilla nel mondo. Questa luce si è incarnata, è venuta nel mondo e ha incominciato la sua predicazione con un grido, con una parola, conversione, convertitevi. Questa è la prima parola che pronuncia Gesù nel Vangelo di Matteo, convertitevi. È l'ora della conversione. Non si deve abitare nelle tenebre, ma bisogna invece camminare nella luce. Ma in che cosa consiste la conversione di cui parla Gesù? In che cosa bisogna cambiare? La prima cosa che Gesù chiede ai Suoi discepoli è la compassione. Compassione viene dal latino compatire, che significa patire con, cioè sentire il dolore dell'altro. E deve essere sempre il principio questo, dell'agire di ogni discepolo di Gesù. Bisogna introdurre nel mondo la compassione verso coloro che soffrono. Infatti Gesù dice nel Vangelo, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Le parole, i grandi discorsi, magari anche i convegni, sono inutili senza l'aiuto concreto. Ricordo un episodio della vita di Madre Teresa di Calcutta. Fu invitata a Roma ad un convegno di tutte le superiori generali dei vari ordini religiosi femminili cattolici e si parlava dell'aiuto ai poveri, si parlava di farsi prossimo a che più debole. C'erano dei grandi slogan. Madre Teresa partecipò anche con attenzione a questo convegno. Quando ritornò, lei comprese una cosa, che quel convegno non avrebbe portato a nulla. Tant'è vero che infatti non ci fu alcun frutto. Lei dice più di lanciare dei grandi slogan, più di fare grandi convegni, bisogna concretamente mettersi ad aiutare chi è nel bisogno. secondo punto. La conversione ci insegna una cosa, che la dignità degli ultimi deve rappresentare il primo obiettivo. Infatti Gesù nel Vangelo dice gli ultimi saranno i primi. Deve essere un nuovo orientamento che si deve imprimere nella storia dell'uomo. Non la logica del potere, ma la logica dell'amore. Infatti i discepoli litigavano spesso nel Vangelo su chi doveva avere il primo posto e Gesù dice fra i re della terra si ragiona in questo modo, ma fra voi non deve essere così. Piuttosto l'ultimo di voi, colui che serve, sia il primo di tutti. Terzo punto della conversione di cui ci parla Gesù si deve dare impulso ad un processo di guarigione che liberi l'umanità da quello che la distrugge e la degrada. Infatti Gesù dice andate e guarite. Ma guarire da cosa? In primo luogo dal peccato. Il peccato è il vero male dell'umanità perché allontana le persone dalla fonte della vita e del bene che è Dio stesso. Questo è il problema più grande, è il peccato. Infatti Gesù viene a redimere l'umanità dal peccato, cioè a istituire nel mondo un processo nuovo di guarigione che porterà le persone, direi, a guarire interiormente e a partecipare della vita stessa di Dio. Poi ancora guarire significa risanare la vita, alleviare le sofferenze altrui per amore di Gesù, costruire una convivenza orientata verso una vita più sana, più degna, più felice per tutti. Cioè noi quando amiamo gli altri, soprattutto chi è nel bisogno, non lo facciamo perché siamo una ONG, cioè siamo una società di volontariato, eccetera, ma lo facciamo per amore di Gesù. Terzo, costruire la fraternità universale, cercare di correggere nelle nuove generazioni sentimenti di competizione, di egoismo. Insegnare ai bambini non tanto soltanto a sopravvivere nel mondo a discapito anche dell'altro, facendo del mare al prossimo pur di primeggiare, ma piuttosto innescare veramente nel cuore dei bambini e dei più piccoli invece dei sentimenti di fraternità. Eppure oggi a noi non piace parlare di conversione, perché quando si parla di conversione pensiamo istintivamente a qualcosa di triste, di penoso, di legato magari alla penitenza, alla mortificazione, all'ascetismo, qualcosa che ci limita, ci toglie la libertà di fare quello che noi vogliamo. Ma la conversione di cui parla Gesù non è qualcosa di forzato, è un cambiamento che va crescendo in noi nella misura in cui ci rendiamo conto che Dio è qualcuno che vuole rendere la nostra vita più umana e più felice. Non si tratta solo di diventare una persona buona, ma di tornare a colui che è buono con noi. Per questo la conversione non è qualcosa di triste, ma è la scoperta della vera gioia, della felicità. Non è cessare di vivere, ma sentirci più vivi che mai. E tutto questo nasce quando c'è un incontro con la vera gioia, con il vero amore, che è Gesù di Nazareth. E una volta incontrato Gesù nasce naturale il seguirlo. Cosa significa seguire Gesù? Mi lascio aiutare da un testo di un teologo basco spagnolo che si chiama José Antonio Pagola. Lui dice seguire Gesù significa credere quello che lui credette, dare importanza a quello che lui disse, interessarsi di quello di cui lui si interessò, difendere la causa che lui difese, guardare la persona come lui la guardò, avvicinarsi ai bisognosi come lui si avvicinò, amare la gente come lui l'amò, confidare nel Padre come lui li confidò, affrontare la vita con la speranza con cui lui l'affrontò. I primi credenti, infatti, compresero che la vita cristiana è come un'avventura costante di rinnovamento, un costituirsi progressivamente uomini nuovi. Dunque, se la fede significa seguire Gesù, dobbiamo domandarci a questo punto chi seguiamo nella nostra vita. A quali leader noi aderiamo? Quali cause e quali interessi noi difendiamo? Vorrei proporre agli educatori di aggiungere una nuova materia all'insegnamento, la fraternità. L'educazione è un atto d'amore che illumina il cammino perché possiamo recuperare il senso della fraternità per non ignorare i più vulnerabili. L'educatore è un testimone che non dona le sue conoscenze intellettuali, ma le sue convinzioni, il suo impegno, vissuto. Una persona che sa gestire bene i tre linguaggi, quello della testa, quello del cuore, quello delle mani, armonizzati e che sa farlo con la gioia di comunicare. E saranno ascoltati molto più attentamente e saranno creatori di comunità perché? Perché stanno seminando questa testimonianza. Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la fraternità anziché la competizione e aiutando in particolare i giovani più vulnerabili. Abbiamo visto poco fa il video che il Papa ogni mese dona appunto alla Chiesa intera ed è il video che appunto ci dona una intenzione di preghiera particolare e questa volta il Papa ci chiede di pregare e di offrire la nostra vita quotidiana in modo particolare per gli educatori e soprattutto chiede agli educatori di inserire nel programma didattico di insegnamento quello della fraternità. Ecco, il valore fondamentale della fraternità, vivere i rapporti fraterni e cercare di aiutare i giovani, diciamo, a non, come dire, cedere all'egoismo, alla competizione, ma piuttosto a innescare energie positive. E siamo qui con Angela, Angela della Monica, la professoressa Angela della Monica, che è un'insegnante di religione che ci racconterà un po' della sua vita come insegnante, ci parlerà della sua missione nell'educazione delle nuove generazioni e ci dirà quanto sono importanti effettivamente queste parole che il Papa ci ha donato. Allora, io insegno da 29 anni, questo è il mio ventinovesimo anno di insegnamento e insegno alla scuola primaria, anche se nel mio percorso ho avuto anche esperienza della scuola dell'infanzia. Il mio percorso è un percorso particolare anche per la peculiarità della mia disciplina. Essendo un insegnante di religione ho la possibilità innanzitutto di lavorare con tantissime classi e quindi con una platea molto ampia e porto oltre a una disciplina specifica, che può essere quella dell'insegnamento della religione, anche una continua e costante testimonianza, che è una testimonianza di vita. Perché? Perché l'educazione dei giovani è un qualcosa di molto importante. Perché? Perché i nostri ragazzi, più che a guardare a ciò che diciamo loro, guardano al nostro essere. Ed è quello che effettivamente il Papa ci dice. Dice, noi non dobbiamo istruire nel piano globale dell'educazione, che è un documento che il Papa ci ha presentato nel 2020, lui ci chiede proprio di essere attenti a questa emergenza educativa che c'è nel mondo. Ed è per questo che ci chiede non di istruire, ma di educere, quindi di portarsi fuori dai nostri ragazzi quelli che sono i loro talenti. È necessario che noi focalizziamo la nostra attenzione proprio nel tirar fuori dai nostri ragazzi quello che di importante loro hanno. E il fatto che il Papa ci chieda di inserire come nuova materia, ce lo dice proprio nel suo messaggio, inserite questa nuova disciplina, che è la disciplina della fratellanza, che deve avere come primo scopo quello di non, di tirar fuori i talenti di tutti e principalmente di eliminare l'idea dello scarto, quindi di avere la maggiore attenzione ai ragazzi più vulnerabili, che oggi sono tanti. Perché? Perché il clima che si è venuto a creare, anche dopo il Covid, ha fatto sì che le fragilità dei nostri ragazzi siano aumentate e quindi noi abbiamo la necessità di creare un clima, anche tra i docenti, che sia proprio finalizzato alla fraternità, quindi a fare in modo che i ragazzi possano anche vedere rapporti fraterni tra gli insegnanti. Vedere, vivere i rapporti fraterni ci porterà quindi a far sì che anche loro faranno proprio queste dinamiche. E poi la vulnerabilità è un qualcosa che i ragazzi conoscono molto bene. Perché? Perché all'interno delle nostre aule noi abbiamo tanti ragazzi speciali e i nostri ragazzi sono costantemente a contatto con questi ragazzi e quindi si danno tanto, fanno sì che possano integrarli, possano essere di aiuto e questo è anche un modo per essere fratello. Come dire, io devo essere a fianco a quelli più deboli, perché sono quelli che maggiormente hanno bisogno di me. Concretamente, come si riesce a educarli, a tirar fuori il meglio che loro hanno nel cuore e quello di donarsi agli altri soprattutto? Quali stratagemmi usate in genere? Possiamo dire delle esperienze concrete di tutoraggio che loro fanno. Allora, per esempio, nei confronti dei ragazzi, diciamo, speciali, io ho avuto modo nella mia esperienza di insegnante di vedere classi intere che si sono occupati proprio in prima persona anche di dar da mangiare al compagno oppure di accompagnarlo, quindi di essere praticamente attivi nei confronti di questi ragazzi. E quindi questa cosa innanzitutto li fa crescere, li fa diventare autonomi, ma li fa sentire importanti. Io ho visto ragazzi che si sostituivano spesso agli insegnanti nelle attività e quindi dentro di loro cercavano di capire cosa potevano fare. Quindi spesso loro stessi si meravigliavano di essere capaci di fare determinate cose. E questo può essere di sprono anche a una forma di tutoraggio reciproco che noi cerchiamo di fare anche in classe attraverso attività di cooperazione, no? Quindi di essere l'uno tutor dell'altro, quindi cercare di dare la possibilità al compagno che sta leggermente più indietro, didatticamente, di poter recuperare. Quindi queste sono tutte forme che noi mettiamo in atto, strumenti, metodologie che mettiamo in atto per dare a loro la possibilità di poter essere l'uno di aiuto all'altro e quindi tirar fuori il meglio di loro stessi, anche attraverso delle forme che loro stessi sperimentano e quindi riescono a tirar fuori. Quanto è importante oggi, per esempio, l'insegnamento della religione cattolica e come fine proprio nell'educazione e nel suscitare la fraternità? Infatti l'insegnamento della religione cattolica, almeno nella nostra poi realtà di Ischia, è molto molto importante. Perché? Perché innanzitutto noi abbiamo la maggior parte dei ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Io come docente sono anche collaboratore dell'ufficio di pastorale scolastica, quindi diciamo che è molto ben chiara la situazione, a livello già fin dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. Sono, diciamo, pochi i ragazzi che non si avvalgono. Sono per lo più coloro che sono di fede musulmana, cioè sono di confessioni religiose o di religioni diverse. Anche se, per mia esperienza, io ho in classe ragazzi che rimangono durante la mia ora perché almeno io cerco di avere un dialogo con i genitori, presentando la disciplina, quindi cercando di spiegare che comunque la religione fa parte anche della tradizione, della cultura del nostro paese e quindi anche per i ragazzi può essere importante conoscere la cultura e le tradizioni del luogo nel quale vivono. E spesso mi è capitato, quasi sempre, di trovare un accordo con questi genitori e quindi di avere ragazzi che, pur non essendo di religione cattolica, però frequentano l'insegnamento della religione cattolica. Innanzitutto noi possiamo dire che con l'insegnamento della religione possiamo mettere in atto quello che dovrebbe essere poi lo scopo dell'educazione, cioè quello di riuscire a coniugare la testa, il cuore e le mani. E questo perché? Perché noi riusciamo a suscitare in loro la curiosità per quello che è specificatamente l'insegnamento, però i ragazzi riescono a mettere in pratica con le mani, come dire, e anche con un contatto attraverso quello che poi fanno nel catechismo domenicale o nelle altre attività, tutte le nozioni, ma anche tutte le cose che riescono a conoscere a scuola. In più, noi riusciamo a coniugare, quindi, testa, cuore, perché? Perché sono sentimenti con i quali loro costantemente vengono a contatto, e poi, appunto, le mani. Nel corso, appunto, di questi anni, noi abbiamo fatto tutta una serie di attività in collaborazione proprio con la Chiesa, anche tenendo conto di tutti i suggerimenti, di tutte le occasioni che ci sono state date. Faccio un esempio. Siamo stati presenti con la visita pastorale da parte del parroco. Non ultima abbiamo avuto, per esempio, la visita della Madonna della Medaglia Miracolosa, ma faccio un esempio. Il fatto che per anni noi abbiamo utilizzato la parrocchia di Santa Maria Maddalena, parlo dell'Istituto Ibsen in particolare, per le manifestazioni natalizie o il precetto pasquale, che è sempre stato molto sentito. Quindi questa collaborazione tra scuola e Chiesa si manifesta, cioè, come si dire, si evidenzia continuamente proprio perché serve per la crescita totale della persona. Perché? Perché lo scopo principale dell'educazione è quello di formare la persona nella sua totalità, e quindi dall'aspetto sia intellettivo, ma dall'aspetto anche spirituale. E quindi la necessità della mia disciplina in particolare, che però si coniuga perfettamente in un rapporto interdisciplinare con tutte le altre discipline. Anche perché credo che l'insegnante di religione, che lavora su tante classi, con tanti docenti, abbia il compito principale di essere operatore di pace, quindi di portare all'interno della scuola innanzitutto la sua testimonianza di vita. E anche di essere una trade union tra tutti gli insegnanti, quindi cercare di far sì che tutte anche quelle piccole situazioni, quei piccoli contrasti che si possono avere in qualsiasi luogo di lavoro, possano essere, come dire, smussati attraverso la parola, attraverso il fatto di cercare di sottolineare che dobbiamo sempre cercare di guardare il bene, e quindi di evitare che si creino determinati contrasti. Un'ultima domanda volevo farti. Tu prima ci hai parlato della pandemia, del Covid, che ha influito anche sui bambini. Quanto questa frana, questa alluvione, ha influito nella psiche dei bambini? Sì, naturalmente i nostri ragazzi sono ragazzi che vengono da già un'esperienza molto particolare, quale è stata quella del terremoto, e che chiaramente li ha segnati profondamente. Noi inizialmente siamo stati ospitati presso le scuole di Ischia, quindi abbiamo dovuto lasciare le nostre scuole perché non erano più agibili, e siamo stati a Ischia. Poi siamo ritornati e abbiamo cercato, con una grande resilienza, perché io devo dire che i nostri ragazzi veramente hanno dimostrato di avere una capacità di adattamento incredibile, di riuscire a fare scuola con quel po' che avevamo, ma siamo riusciti a mettere in piedi di nuovo la nostra scuola, facendo tutta una serie di attività. Abbiamo ripreso gli orari così come dovevano essere, abbiamo cercato di fare progettualità, insomma, abbiamo cercato di rimettere in sesto la nostra scuola. La pandemia poi ci ha di nuovo riportati in una situazione estremamente complessa, però anche in quel caso, attraverso la DAD, attraverso tutta una serie chiaramente di attività con le tecnologie che oggi ci sono date, abbiamo ripreso tutto quanto. Con la frana, chiaramente sembra quasi che siamo stati riportati in un'altra situazione, ancora più complessa, però noi attraverso anche degli incontri, che durante i periodi, i giorni nei quali la scuola è stata chiusa, noi abbiamo avuto con i nostri ragazzi, sempre attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, abbiamo cercato di essere vicini a loro, li abbiamo fatti parlare, abbiamo cercato di tirar fuori tutte le paure, che ormai erano sopite, che però erano ritornate di nuovo a galla. E oggi, nonostante chiaramente tutte le paure, che ogni volta che c'è un'allerta, che c'è qualcosa di cattivo tempo, i ragazzi tirano fuori, noi cerchiamo sempre di tranquillizzarli. E loro con noi poi hanno un rapporto particolare, speciale, siamo un po' come le mamme, perché essendo scuola primaria, i ragazzi con noi riescono a dire tutto. E quindi anche i loro timori noi li aiutiamo a farli venire fuori. Quindi devo dire la verità, anche se sono stati colpiti profondamente, specialmente poi ci sono bambini che sono dovuti andare via dalle loro case, ai quali siamo particolarmente vicini. Insomma, stiamo riprendendo, ci stiamo riprendendo di nuovo, come dire, la nostra vita. Chiaramente cercando di far capire ai ragazzi, e questo servirà a loro proprio come crescita, che la vita è fatta di tante grosse difficoltà, e che fin da piccoli loro queste difficoltà devono imparare ad affrontare. Chiaramente con l'aiuto di noi adulti, con la collaborazione da parte delle famiglie, con le quali, devo dire la verità, noi abbiamo un ottimo rapporto. Perché come dice il Papa, tra i vari punti bisogna coinvolgere le famiglie, perché? Perché le famiglie sono i nostri alleati principali, oltre a tutte le altre agenzie educative con le quali ci interfacciamo costantemente. Però la famiglia sicuramente è il nostro interlocutore privilegiato. E con l'aiuto nostro e delle famiglie stiamo cercando di andare avanti. Grazie Angela, grazie perché tra l'altro... Grazie a voi, a Don Gino, grazie per avermi chiamato. Devo dire che per la tua testimonianza, perché ho avuto la possibilità anche di vedere il tuo lavoro, di vedere quanto i bambini ti apprezzino, anche gli altri docenti. E quindi ringraziamo il Dio per questa testimonianza. E vi lasciamo qui e vi chiediamo proprio di offrire tutta la vostra vita, la vita di ogni giorno, per questa importantissima intenzione che il Papa ci ha donato durante questo mese di gennaio, perché in fondo riguarda il nostro futuro, il futuro dell'umanità. Un'umanità che deve imparare veramente a costruire legami più solidi, più profondi, più veri, che sono legami di fraternità. Grazie e a presto. Grazie a tutti.